Vittorio Esposito, confermato sindaco del Comune di Sanza, lo hanno deciso i cittadini e il risponso è arrivato dalle urne. Trepidante attesa ieri davanti ai seggi elettorali per conoscere l'esito del voto di domenica, ma sin dalle prime battute è emerso un chiaro vantaggio del sindaco uscente Esposito rispetto al suo contendente Antonio Citera, che fino a poche settimane fa sedeva tre banchi della maggioranza accanto proprio ad Esposito. Una frattura consumatasi negli ultimi mesi ha portato ad una campagna elettorale lunga, estenuante, a tratti dura, che si è chiusa definitivamente ieri intorno alle 17, quando dal seggio, a spoglio non ancora concluso, è emersa la matematica e certa vittoria della lista cambiamenti per Sanza e la riconferma per la quarta volta alla guida del Comune di Vittorio Esposito. Un mix di emozioni, stanchezza e voglia di abbracciare e abbracciarsi sono stati i sentimenti emersi al momento della festa e da cui è emersa soprattutto la voglia di sciogliere la tensione che ogni campagna elettorale inevitabilmente porta con sé. Vittorio Esposito, portato in trionfo dalla sua gente, ha festeggiato il risultato ottenuto affacciandosi al balcone della stanza del sindaco nel Comune, pronto a mettersi nuovamente al lavoro per il suo paese. Ma prima di tutto ringraziarla per il sostegno per oltre 40 giorni, siamo stati insieme, abbiamo lavorato per vincere questa battaglia dura, anche perché noi avevamo avuto una scissione interna, nonostante tutto abbiamo riconfermato i voti dell'altra volta. Io tengo a dire che praticamente questo è un popolo che ti dà tutto, io sto dando tutto a questo popolo e mi auguro che in questi cinque anni possiamo fare grandi cose come le abbiamo fatte fino adesso, nonostante i denigratori interni ed esterni. Sono 42 anni che mi batto per portare questo paese avanti. Fuori c'è gente che ci ammira, ci rispetta, ma qua purtroppo c'è una fazione che non vuole il progresso di Sanza, io credo che la campagna elettorale è finita, bisogna rimboccarsi le maniche e soprattutto dire a quelli che sono contro a prescindere che io lavoro per il progresso di questo gruppo. Con circa 300 voti in più rispetto alla lista contrapposta, il gruppo di cambiamenti per Sanza sarà alla guida del Comune per i prossimi cinque anni. Accanto a Vittorio Esposito ci saranno Tony Lettieri, il più votato con 179 voti. Segue Marianna Citerà con 136 preferenze, a cui si aggiungono per la maggioranza Francesco Antonio Cozzi, Angelo Marotta, Ivan Peluso, Marisa Vitolo e Francesco De Masi. L'opposizione sarà composta da Antonio Citera, Francesca Losinno e Demetrio Curcio.